Sì, è venuto, mi ha abbracciato e mi ha dato queste Ma chi? Il Premier, santo, santissimo Premier Su Rai 1, malaria Le camicie nere della milizia si schierano contro Ettore Bassi Per raddrizzarlo a olio di ricino e bastonate Su Rai 2, Champions League Una gara scelta dato che neanche la Rai hanno capito quale mandare Non hanno sospeso neanche la Serie A Ah no? Però hanno giocato con delle faccine così tristi Su Rai 3, chi l'ha visto? Mi chiedo, chi mai lo vedrà, l'ingegnere che ha progettato la casa dello studente giù all'Aquila? Su Canale 5, la fattoria Cioè i soliti VIP che fanno finta di soffrire e c'è il capetto che comanda gli stronzi che lavorano Ah ma c'è anche quest'anno Andava di domenica quest'anno Ah ecco, ma io esisto solo da lunedì a venerdì Su Italia 1, Colorado La versione scarsa di Zellig con dei copici che fanno pietà E ciliegina sulla torta, i fichi Su Rete 4, il fuggitivo Ma tu chi preferisci? Harrison o Tommy Lee? Tutte e due Sulla set Exit, uscite di sicurezza Su MTV I Crimson Award Ma che cazzo è? Sono i premi dei VIP con la casa più figa Ah, per farci schiattare tutti di invidia Dai che a te il premier ha dato la tenda più bella E' vero Io non dovrei parlare All music Cartone animati e DJ Chiava Italia A domani E se i palinsesti cambiano Non date la colpa a me Io sono in un camping Venga.